Come Banca del Territorio il problema dell'occupazione giovanile è un problema sentito e al di là dei proclami e degli editti che poi ognuno di noi fa, io credo che bisogna passare alla realizzazione pratica e verificare le varie opportunità che si possono creare per i giovani e si possono aprire. Per cui questa serata con Quanta che è una società di lavoro interinare rappresentata da un nostro conterraneo, l'onorevole Mattina, credo che possa essere l'inizio di una nuova sperimentazione per cui a Quanta noi offriremo i curriculum dei nostri giovani e anche la possibilità alle aziende di instaurare dei rapporti con la stessa società per avviare dei giovani al lavoro. Presso gli sportelli della banca saranno istituiti degli infopoint di Quanta dove noi forniremo tutte le notizie e tutte le informazioni possibili e immaginabili ai giovani e riteniamo che effettivamente possa essere utile a tanti giovani figli di soci innanzitutto ma anche non figli di soci, ovvero sia ai nostri clienti, al territorio soprattutto, perché pensiamo un infopoint nel Vallo di Diano è un infopoint a Tito dove noi siamo presenti con la nostra filiale. Noi siamo Banca del Territorio, nasciamo perché effettivamente dobbiamo fare in modo che facciamo incontrare i bisogni del territorio con le persone che vivono il territorio. La Quanta è un'agenzia per il lavoro e quindi si occupa di risorse umane a tutto campo, dalla formazione alla selezione delle persone e all'avviamento al lavoro, talvolta in prevalenza per periodi relativamente brevi, ma anche per periodi molto lunghi e molte volte anche a tempi indeterminati. È evidente che noi siamo attenti ai due versanti, sia quello del lavoro che il versante delle imprese. Se le imprese crescono, se le imprese vanno bene, se le imprese hanno innovazione, si giustifica la nostra presenza perché facilitiamo le imprese nell'individuare le competenze giuste e quindi a inserirle al momento giusto nella loro struttura. Se le imprese vanno male è evidente che non c'è molta possibilità di attività. Nel caso specifico a me sembra che la richiesta che ci ha fatto BCC di Sassano di stabilire una partnership con noi sia una richiesta che ci fa molto piacere e ci onora, da una parte e dall'altra parte ci stimola moltissimo. Perché pensiamo da un lato di poter offrire ai giovani, se non altro dei suggerimenti, dei consigli, degli orientamenti su come muoversi dal momento in cui completano i percorsi scolastici e debbono poi scegliere il percorso di vita e quindi anche la prospettiva di lavoro. Dall'altro lato, avendo la possibilità di parlare più direttamente con le aziende, possiamo capire quali sono i loro bisogni in termini di competenze professionali e assicurare a queste aziende un reclutamento a livello di qualificazione professionale molto elevato. In questa fase avere la possibilità di fare entrare del personale al proprio interno, casomai anche per periodi brevi di lavoro, significa mantenere viva l'attività dell'azienda e contemporaneamente non lasciare alla deriva delle risorse umane che invece a distanza di sei mesi, un anno potrebbero rivelarsi particolarmente importanti e casomai non le troviamo più.